Dal 21 al 28 agosto a Sera di Falco ci saranno spettacoli in prima nazionale e prima regionale, residenze artistiche ma anche incontri e presentazioni sul tema della danza contemporanea. Dopo gli appuntamenti di luglio prosegue infatti la quarta edizione del Performare Festival, manifestazione voluta dall'Associazione Narte con la direzione artistica di Simona Miraglia e Amalia Borsellino del collettivo Sicily Made. E' ancora organizzata grazie anche al patrocino e contributo del Ministero della Cultura, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, Comune di Sera di Falco e realizzata con il coinvolgimento di numerosi partner, associazioni e realtà siciliane. Nelle varie location scelte si esibiranno artisti e compagnie di danza contemporanea nazionali e internazionali. Attorno al tema scelto quest'anno e confini dell'immaginazione si svilupperà il programma della manifestazione che punta alla diffusione della danza, al radicamento delle arti performative nel territorio e al coinvolgimento dei più giovani in una crescita artistica condivisa, così com'è nella natura di Performare Festival sin dalla sua prima edizione, si legge nel comunicato. Tra i momenti cruciali la sezione è Performare Project, protagonisti, coreografi Peter Giasco e Clara Fury, artisti di fama internazionale, con una residenza artistica dal 22 al 26 agosto, un progetto in condivisione con il Marosi Festival. Per il debutto in prima nazionale il 26 agosto di Dog Play, una creazione originale, verranno coinvolti nella realizzazione danzatori professionisti e alcuni studenti del liceo coreotico Ruggero VII di Caltanissetta. Si prevede anche nella stessa sezione un laboratorio gratuito di scrittura critica dal 25 al 28 agosto, rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni, e poi ancora tra gli eventi la presentazione di libri, uno spettacolo pensato per i più piccoli che coinvolgerà anche gli adulti, e ancora musica con il concerto conclusivo di domenica 28 agosto.